Allora ciao a tutte e a tutti, scusate in questo video mi vedrete in due versioni completamente diverse perché purtroppo l'ho registrato perso la parte iniziale quindi sto registrando di nuovo l'inizio quindi vi cucate ma è così, tra poco mi vedrete tutta bella pettinata, lisciata in una condizione sicuramente migliore che vi potrete godere di più però per il momento mi prendete così Allora da tanto tempo avevo voglia di commentare un video di Onorina perché sicuramente nell'era di Youtube è un po' quella che ha fatto un po' più discutere per quanto riguarda tutte le vicende legate all'alimentazione perché lei è abbastanza proficua con questi What I Eat In A Day e con video in cui parla della sua alimentazione e la sua visione dell'alimentazione è mancata per un pochettino di tempo, ultimamente sta facendo video più saltuarialmente e adesso è venuta fuori con due video di cui uno si chiama proprio Real e questa cosa mi ha fatto un po' dire e gli altri? Se questo è Real gli altri? E vi ricordo che in questo video io parlo, commento, l'alimentazione non è assolutamente mia intenzione e vorrei che non fosse neanche la vostra lasciare giudizi, commenti, critiche sulla persona quindi anche voi nei commenti mi raccomando teniamo un ambiente pulito, sereno e costruttivo ecco questa è la parola giusta quindi non indugio, faccio partire il video che vedo che parte proprio con la colazione quindi vediamo cosa mangia Onorina per colazione in questo Real What a Day in a Day Ho mangiato della torta che abbiamo fatto ieri alle melle erano rimaste quattro fete tre fete, quindi ne è rimasta una con su spalmata, sapete questa crema di natura sì ho parlato su Instagram tantissimo perché è stra 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 buona cioè questa dovete provarla merita veramente crema di coco e mandorle con datteri nient'altro, solo questi tre ingredienti quindi ottima anche dal punto di vista diciamo nutrizionale allora sì, sicuramente questa crema molto meglio della Nutella molto meglio di tante creme spalmabili c'è solo un piccolissimo problema il fatto che comunque gli zuccheri siano naturali non vuol dire che non esistano o che facciano meglio insomma dello zucchero tra virgolette più raffinato che è lo zucchero bianco i datteri sono anch'essi una forma molto concentrata di zuccheri diciamo ad alto indice glicemico poi comunque nel dattero nella sua interezza c'è comunque tanta fibra quindi il tutto viene gestito diciamo meglio nel corpo insomma molto meglio se mi mangio un dattero nella sua interezza piuttosto che un cucchiaio di zucchero bianco così senza nient'altro che possa controllarne l'assorbimento detto ciò stiamo parlando comunque di una crema molto calorica molto ricca di grassi con molti zuccheri comunque ad alto indice glicemico perché poi non so se in questa crema ci sono i datteri frullati ma non penso penso che sia sciroppo di datteri lo sciroppo di datteri comunque diciamo è una forma un pochettino è una forma in cui gli zuccheri si concentrano e le fibre vengono per grossa parte distrutte perché comunque anche quando frullate la fibra non è più la stessa cosa è per questo che è sempre meglio mangiare la frutta intera piuttosto che gli estratti centrifugati frullati eccetera eccetera quindi sì un buon prodotto da mangiare con moderazione un buon prodotto per sostituire un prodotto equivalente a livello industriale diciamo non un prodotto che uno può mangiare sicuramente a cuor leggero soprattutto se magari c'è l'intenzione di perdere peso o comunque se è in una situazione in cui ci si muove molto poco tipo acqua anche qua il discorso purtroppo a me cambia molto di giorno in giorno periodo in periodo cioè io ho trovato che su di me ho scoperto diciamo che su di me un litro e mezzo è la perfezione se bevo meno di un litro e mezzo sono gonfia perché soffro tantissimo di ritenzione idrica soprattutto sul viso mi gonfio il viso ma anche le braccia e le gambe se bevo più di un litro e mezzo ad esempio due litri anche lì mi gonfio io accumulo l'acqua mi gonfio e non va bene neanche quello ecco quello che stavo dicendo esattamente nel video di Annalisa Annalisa Superstar che lei insomma nei suoi consigli dice bevete, bevete, bevete e io ho detto bevete, non per tutti più bevi meglio è ci sono persone che più bevono più si gonfiano a volte è proprio questione di trovare come si dice lo sweet point il giusto compromesso tra vera sufficienza ma non bere troppo e si sperimenta un po' sulla propria persona l'orina ha trovato un litro e mezzo non dobbiamo fare i cammelli io vedo queste persone che a volte si portano queste bottigliette ovunque e si continuano scusa no devo andare in bagno perché sai bevo tanto se tu devi passare la giornata in bagno a fare la pipì entra nell'ottica del fatto che questa acqua ti sta passando attraverso cioè tu la bevi e la butti fuori quindi non ti sta idratando tutt'al più sta pulendo un po' i beni ma li sta anche un pochettino affaticando quindi troviamo il buon senso anche nell'acqua che anche l'acqua può fare male in eccesso quindi la moderazione anche in questo caso ha senso questo aceto di mele è un altro diciamo un altro prodotto che non manca mai in questa casa cerco di inserirlo come ho detto ieri su Instagram io voglio essere ricordata come nutrizionista per essere quella che sponsorizza l'aceto voglio entrare nelle grazie della Ponti assolutamente aceto di mele aceto di melograno ieri ho fatto questo post su Instagram su questi due studi che sono stati fatti in Cina e in Corea se non mi sbaglio ed effettivamente uno degli studi l'hanno fatto sull'aceto di mele l'altro sull'aceto di melograno che entrambi si sono dimostrati efficaci nel ridurre il grasso corporeo e in particolare il grasso viscerale in realtà il composto che funziona la molecola che aiuta la combustione che brutto termine dei grassi è l'acido acetico quindi che sia aceto di mele che sia aceto di melograno che sia aceto di vino non fa così tanta differenza l'aceto di mele in realtà poi ha altri benefici per questo si continua a consigliare l'aceto di mele anche perché comunque il sapore è più tenue lo potete proprio mettere nell'acqua e bere nell'acqua l'aceto di melograno non l'ho mai provato ma immagino che sia veramente molto buono anche quello quindi bravissima Norina brava e prendere il magnesio perché sento che mi aiuta molto sia dal punto di vista fisico che mentale vedete stress psicofisico non riesco a vedere che tipo di magnesio è se è un magnesio citrato un magnesio ossido un bisglicinato di magnesio ce ne sono talmente tante forme e tutte sono assimilabili in maniera diversa tendenzialmente voi sapete che il magnesio nel posto si può prendere per varie cose ha un effetto non dico lassativo comunque aiuta per ristarsi intestinale e diciamo che se volete ottenere quell'effetto le forme meno assimilabili di magnesio sono quelle più consigliabili proprio perché l'effetto lassativo del magnesio nasce dal fatto che il magnesio il nostro corpo si autoregola quindi se ne ha in eccesso o comunque se non lo riesce a assimilare lo butta via nell'intestino e quindi da qui l'effetto lassativo invece se volete ottenere più l'effetto rilassante è proprio un antistress naturale o comunque per la muscolatura per tutte queste cose avete bisogno di fonti le fonti più assimilabili di magnesio il magnesio supremo è magnesio citrato non è la fonte più assimilabile in assoluto però va abbastanza bene diciamo che il magnesio supremo prende un po' fa un po' di tutto mi aiuta con l'intestino mi aiuta con lo stress l'umore eccetera eccetera diciamo che le fonti più assimilabili sono proprio il bisglicinato quelle con nomi un pochettino più strani e il magnesio ossido in assoluto è quello meno assimilabile quando trovate in giro degli integratori di magnesio con dei costi bassissimi perché ce ne sono tipo anche all'Eurospin a Lidl trovate integratori di magnesio nel 99% dei casi è magnesio ossido di cui non vi fate assolutamente nulla di nulla di nulla quindi lasciatelo sullo scaffale stress psicofisico e ovviamente il magnesio è molto utile anche nei crampi per i crampi mestruali crepe perché facciamo le crepe per pranzo però salate mi è piacentatissimo anche i dolci ma le facciamo salate perché altrimenti se mangi solo il dolce intanto lo faccio specialmente in periodo per mestruzioni però ti sembra di non aver mangiato in realtà quindi vi dico la ricetta mezzo mestolo d'acqua 125 grammi di farina 125 grammi di latte 2 uova si possono anche evitare le uova io ormai sono abbastanza tarata sulle ricette vegane vengono molto bene anche senza uovo certo le uova diciamo aiutano un pochettino ora siccome le crepe mangio solo io a pranzo perché Andrea si scalda la sua focaccia di rieco di rieco di mezzo le dosi perché le mangio solo io grandissimo errore allora io ho già visto il video quindi so cosa succede quando c'è in casa un uomo non dimezzare le dosi perché tanto l'uomo ti dice che vuole mangiare una cosa ma poi ti vorrà mangiare anche la cosa che vuoi mangiare tu se hai un bel aspetto quindi mai fare questa cosa piuttosto fai e congela perché le crepe una volta che le fai le puoi anche congelare tranquillamente scongelare o comunque durano te le mangi il giorno dopo anche perché quando tu dimezzi le do più lavori in piccolo con piccoli quantitativi più le cose vengono male tendenzialmente quindi è sempre meglio fare grandi volumi anche perché così hai pronti i pasti successivi te lo sto dicendo va bene ok facciamo metà facciamo metà però io la maionese non la voglio solo su metà ma perché non me l'hai detto ho dimezzato le dosi ho detto che devo dare dei giudizi solo sull'alimentazione però fatemi dire questa cosa io vi giuro che se Onorina e Andrea si lasciano ci rinuncio veramente non credo più nell'amore perché per me loro sono veramente perfetti si completano alla perfezione quindi fantastici li apprezzo molto come coppia mi piacciono tantissimo ma che problema hanno gli uomini con la maionese veramente boh perché non dovevi mangiare da un'altra io hai detto che non le volevi cioè io 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 non lo so una metà quante copie sono scopiate in questa quarantena voi siete ancora con i vostri fidanzati non mi esprimo non mi esprimo però adesso capisco capisco molte cose perché cioè Andrea non solo gli sta fregando le crepe che doveva mangiarsi lei ma lei gli sta spalmando anche con una precisione da non so in bianchino la maionese sulla crepe questo è un atto d'amore infinito io gli avrei detto tu adesso ti prendi la crepe la maionese te la spalmi da solo io mi faccio le mie vedi perché poi rimani sola con i gatti scusate forse vi aspettate che io vi faccia un commento nutrizionale sulla maionese che devo dire sulla maionese il concetto è che non tutti i pasti sono fatti per essere nutrienti per il corpo certi pasti sono fatti per essere nutrienti per l'anima tendenzialmente gli uomini nutrono di più l'anima lo spirito usano più la parte donistica dell'alimentazione e ci sta cosa gli vai a dire però una cosa curiosa io metto la maionese nelle mie diete tra le fonti di grasso e le persone si stupiscono sempre molto io ho un approccio abbastanza matematico io una volta costruito il pasto metto le opzioni delle fonti di grasso e quindi metto chiaramente l'olio extravergine d'oliva ma metto anche le sostituzioni cerco di infilare anche l'idea di poter utilizzare il tahin la crema di sesamo ma metto anche la maionese in modo che i grammi di maionese che metto contengono la stessa quantità di grammi dell'olio extravergine d'oliva che consiglio ora per me la qualità degli ingredienti è sempre molto importante ma per un discorso di dimagrimento io sto parlando di diete che do per il dimagrimento alla fine diciamo i macronutrienti le calorie sono quelle che la fanno sempre da padrone quindi io ci spendo un buon 5 minuti per spiegare che se gli ho messo la maionese non vuol dire che tutti i giorni si devono mangiare la maionese però io dico se c'hai quel giorno che ti viene voglia di mangiare un qualcosa in cui ci starebbe veramente bene la maionese perché no alla fine dal punto di vista del dimagrimento non ci fa danni se rispetti quelle quantità quindi questo è il mio punto di vista la maionese pesa di tacchino rucola qua faccio vedere come si presentano delle crepe a rotolo quindi queste metà perché Andrea si è aggiunto e a questo punto anche la torta questa feta per me e poi supermercola quindi anche lei ha mangiato le crepe con la maionese e la fesa di tacchino adesso vi racconto una cosa un gossip una cosa che è successa veramente tanti anni fa voi se seguite se conoscete onorina vi ricorderete sicuramente come mi ricordo io del suo video in cui parlava di libri sull'alimentazione ha parlato tantissimo del libro di riefoli riefoli come si chiama mangio sano vegano mangiare sano vegano non mi ricordo metterò un sottopancia io al tempo anch'io ero fulminata per riefoli lo seguivo tantissimo ho letto chiaramente il suo libro ne ero molto appassionata succede poi che onorina parla di questo libro però diciamo predica bene ma razzola male nel senso che quel libro parla di alimentazione fondamentalmente vegana di un cambio di alimentazione verso un'alimentazione vegetale lei questo cambio un pochettino sembra farlo in una fase iniziale ma poi la rivediamo dopo poco tempo a mangiare in Giappone sushi con il foie gras si so tutto perché appunto io la utilizzavo sempre utilizzavo il servito soprattutto quelli dei viaggi per fare la mia ellittica mi ricordo proprio che mangio questo sushi col foie gras io ci rimasi veramente male perché dico ok che non dobbiamo essere tutti vegani insomma ci si può si può anche trovare una via di mezzo una via di mezzo però cioè se leggi certi libri e fai un certo click dici aver fatto diciamo un click mentale il foie gras non riesci a mangiarlo riesci magari a mangiare i latticini riesci a mangiare la carne sporadicamente di certi tipi di allevamenti ma il foie gras dura eh dura far tacere l'etica in quei casi e cos'è successo che io ho conosciuto riefoli uno dei primi incarichi che mi è stato dato da vegano ok è stato proprio andare a prendere in macchina riefoli in stazione quindi ci siamo fatti un viaggio in macchina e in macchina secondo voi di che cosa abbiamo parlato gli ho dovuto dire che ero diciamo dispiaciuta devo dire anche questa cosa se no non si capisce poi onorina aveva fatto un altro video dove diceva che riefoli l'aveva contattata per ringraziarla della recensione sul suo libro e io riefoli avevo proprio detto però lei ha ringraziato questa youtuber ha avuto uno scambio una conversazione con questa youtuber credendo che avesse fatto un cambiamento no lei si mangia il fracare lui dice ma io ho visto il video mi era piaciuto insomma mi ha fatto pubblicità mi ha diciamo aiutato nelle vendite quindi mi sono sentito di ringraziarla io avevo proprio l'astio invece ero giovane ero giovane e all'inizio del mio cammino da vegana quindi ero proprio molto molto fomentata e giudicante cosa che assolutamente non sono più ora sono molto più tollerante alcuni fanno il percorso inverso ma io invece diciamo sono partita diciamo in quarta poi mi sono andata una calmata ma continuiamo col video oddio un'altra pubblicità no no oh no no dai è venuta una fame pazzesca tra il pranzo a dividere con Andrea e tutte le pulizie quindi ho preso questo yogurt greco alla pesca che mi piace quindi potete immaginare la mia felicità e la sorpresa nel trovarla già ad aprile anche le zucchine si trovano tutto l'anno le fragole stono tutto l'anno questo non vuol dire che insomma sia una cosa di stagione che sia una buona idea comprarla essendo anche io un amante dell'anguria capisco la bramosia insomma la individua anche un pochino una cosina sull'anguria sempre per il fatto che ho seguito molti video di Onorina ho capito che Onorina un po' come me soffre molto di intestino soffre probabilmente di una forma di intestino irritabile lungi da me fare diagnosi ma tanto dire che hai il colon irritabile come dire non so hai mal di testa è una cosa talmente ampia che sta bene un po' su tutto diciamo io dico sempre che il colon irritabile è la risposta che i medici hanno a tutto ciò che non possono capire dell'intestino assolutamente e l'anguria purtroppo e lo dico a mio svantaggio perché se potessi campare d'anguria 365 giorni l'anno vi assicuro che lo farei ma l'anguria è uno tra i frutti più ricchi di Foodmap in assoluto non ho parlato di Dieta Foodmap io l'ho studiata molto approfonditamente un po' perché serviva a me perché io con l'intestino ci ho litigato molto tempo fa e ho dovuto trovare una soluzione però diciamo che mi sono voluta specializzare in questo campo proprio per aiutare i miei pazienti visto che questa è la problematica più comune in assoluto la Dieta Foodmap funziona molto bene e si tratta semplicemente di una eliminazione di tutti quegli alimenti che contengono questi Foodmap che cosa sono? sono fibre fondamentalmente un certo tipo particolare anzi quindi alcuni tipi particolari di fibre e l'anguria ne è molto molto ricca se non mi sbaglio il Foodmap che è contenuto in altissima concentrazione nell'anguria è il sorbitolo questo zucchero particolare quindi chi soffre di colon irritabile diciamo che sicuramente non è una buona idea mangiarsi chili di anguria ma sono io la prima a non farlo però sappiatelo ecco poi se riuscite a farlo è tutto un altro discorso vediamo la cena vediamo se ci fanno vedere la cena bellissime immagini dei prati lodigiani eccola qua alla fine avevo voglia di salato quindi non ho fatto l'assai bowl ma vi spiego pomodorini, origano, olio evo e cipolla rossa di tropea quindi una specie di insalatina le coccole e salmone in crosta di sesamo e poi questi creccherini che questi mi piacciono molto sono di questo marchio ve lo faccio vedere di ceco con grano tenero mi sembra di dire una banalità però come ho detto l'altra volta a volte è bello ripetere le banalità come dice Annalisa Superstar mangiate un bel pezzo di pane è meglio è il meglio sì il pane è sempre meglio dei cracker i cracker diciamo sembrano più leggeri ma parità di peso hanno molte più calorie del pane il pane sazia di più è più idratato ci sono molti buoni motivi per preferire il pane il problema è che il pane te lo devi andare a ricomprare non è fresco insomma quindi i cracker sono sicuramente più pratici anche qui è sempre una questione di buonsenso tu devi sapere che se vuoi mangiare i cracker al posto del pane mi devi mangiare una quantità minore io sinceramente i cracker preferisco le gallette proprio per il fatto che contengono tutta quest'area insomma mi sembra di mangiarne di più mi soddisfano un po' di più mi saziano di più questi cracker per quanto possano essere molti cereali questi nomi così in realtà sono tutte farine raffinate perché bisogna sempre distinguere tra integrale e multicereali molto spesso si usa questa dicitura multicereali e le persone confondono il multicereale con l'integrale anche con la pizza non è la stessa cosa multicereali significa che è multicereali quindi ci sono tanti cereali ma non vuol dire che questi cereali poi siano nella forma integrale quindi fate attenzione per il resto salmone, croccole anche le croccole non ricordo gli ingredienti io ormai so gli ingredienti di tutti i prodotti vegani del mondo però tendenzialmente questi prodotti hanno un sacco di amidi, farine amidi di patata amidi modificati non li amo particolarmente però insomma stiamo sempre parlando di raffinatezze magari le persone mangiassero tutti così risolveremo tanti problemi in questo mondo il salmone ecco questo non è il mio taglio preferito perché questi tranci sono i tagli un pochettino più grassi del salmone e voi direte sì però i grassi del salmone sono grassi sani dipende questi tranci che hanno proprio molto grasso in evidenza sono un po' sbilanciati verso un contenuto maggiore di grassi non propriamente salutari rispetto a quelli più salutari e non vi faccio assolutamente la supercazzola degli omega 3 quando vengono cucinati quindi il pesce perché se no ci mettono 6 ore facciamo finta che questa cosa non esista per il momento e insomma cosa mi puoi dire su un pasto del genere è un pasto più che accettabile prescindendo poi dalle mie diciamo scelte etiche quindi come concludere direi che non c'è male insomma come giornata alimentare c'è stato spazio per cose un po' più porcose questo termine molto da nutrizionisti c'è stato spazio per cose più sane c'è stato spazio per la frutta c'è stato spazio per una torta fatta in casa di mele quindi insomma ripeto mangiassero tutti così risolveremo un sacco di problemi c'è solo questo fatto e che purtroppo per quanto uno ce lo possa anche scrivere sul titolo Real Water Eating a Day io sono sempre un pochettino scettica che poi questi Water Eating a Day riflettano esattamente l'alimentazione e mangia quella determinata persona perché purtroppo si tende molto a idealizzare soprattutto le ragazze più giovani cercano tendono proprio a fare copia in colla di quello che vedono dalle persone che idealizzano quindi bisogna sempre stare molto molto attenti questo video va assolutamente molto molto bene ho visto in passato video che mi hanno fatto storcere un pochettino al naso però ecco io apprezzo molto ma molto di più questi Water Eating a Day per quanto un pochettino artefatti in cui si cerca di dare il buon esempio piuttosto che le mukbang di junk food di McDonald's di abbuffate scriteriate che poi vedi l'influencer che pesa 40 kg bagnata e dici ma cosa mi stai raccontando quindi questo è il discorso però sto già divagando un pochettino troppo e direi che possiamo concludere qui anche perché sto vedendo già le luci che mi stanno illuminando di messo spero che sia andata tutto bene lo scopriremo vivendo io vi mando un grosso bacione spero di rivedervi presto grazie a tutti